Eccoci giunti alla lezione 9 del corso Practitioner di PNL. In questa lezione tratteremo le regole. Abbiamo visto nella lezione precedente i valori. Il valore risponde alla domanda che cosa è importante per me. La regola invece risponde alla domanda come soddisfo ciò che è importante per me. Se al primo posto ho il valore della famiglia, come soddisfo questo valore? Cosa vuol dire per me avere una famiglia? Vuol dire avere una fidanzata? Vuol dire avere una moglie e 10 figli? Vuol dire avere una moglie e un figlio? Vuol dire avere una famiglia allargata per cui magari adottare tanti bambini? Oppure avere una famiglia esterna per cui magari dedicarmi per dire a un orfanatrofio e quindi seguire tante persone che vedo come la mia famiglia? Insomma ci sono tanti modi per sviluppare, tante regole per sviluppare un valore. Il mio valore è il divertimento. Nell'esempio che abbiamo fatto precedentemente. Come soddisfo? Quali regole sono le regole che determinano il mio divertimento? Sono ubriacarmi e mangiare a sbafo tutte le sere? Oppure andare a ballare? Oppure andare a fare una passeggiata in montagna? Questa è la regola che serve per soddisfare il valore. Se le regole sono diverse, capite che il modo di soddisfare il valore è molto diverso. Per questo dobbiamo rendere poi più specifico il valore, per stabilire anche le regole per soddisfare. Queste regole devono essere ecologiche, cioè devono essere delle regole che non mi danneggiano in nessun modo. È importante quindi definire le regole che usiamo per soddisfare i valori. Bene, per questo video è tutto. Vi do appuntamento al prossimo. Seguitemi anche sul blog www.seleuziontrip.com Ciao!